Deve completare la sequenza di riavvio. Un agente si è unito al gruppo. Sottraendo il museo Viewpoint ai Trussons, li renderemo più difficile coordinare le truppe e spargere disinformazione. Tutte le comunicazioni in entrate e in uscita vengono controllate da uno studio di produzione all'ultimo piano. Raggiungilo e mettilo in sicurezza. Tutti i sistemi reimpostati ai valori di default. Sotto comando diretto Shade. Bene, ora le nostre comunicazioni sono in linea, mentre abbiamo silenziato i Trussons. Alimentazione locale instabile. Sistemi di comunicazione offline. Ma che cazzo? Vedo numerosi nemici sul tetto. Stanno piazzando dei disturbatori EMP intorno all'antenna. È Wade. Sta provando a sabotare l'antenna. Senza, nessuno potrà trasmettere da Viewpoint. Agente, raggiungi il tetto. Devi impedirgli di mettere fuori uso l'antenna. Carica elettromagnetica rilevata. Wade usa dei disturbatori EMP per sovraccaricare l'antenna radio. Eliminali prima che la distruggano. Sistema sospeso. Integrità strutturale al 75%. Agente, devi fermare Wade. Quell'antenna ci serve. Se il jammer EMP è in funzione, non possiamo usare la tecnologia SHING. Neutralizzalo. Malfunzionamento del sistema. Sistema riattivato. Sistema sospeso. Sistema attivato. Malfunzionamento del sistema. Sistema riattivato. Agente a terra. EMP. Integrità strutturale al 50%. Grave trauma rilevato. Agente fuori combattimento Parametri vitali assenti A un agente serve aiuto Versaglio fuori Vogliono circondarci Integrità strutturale al 25% L'antenna non sopporterà un altro colpo Arresto del sistema Concentrati sugli MP sono il tuo bersaglio Sistema attivato Sistema sospeso Malfunzionamento del sistema Carica elettromagnetica eliminata Sistema sospeso Sistema distinato Assistenza medica immediata Agente a terra Agente a terra Aggiungo la posizione A un agente serve aiuto A un agente serve aiuto Abbiamo degli ostini sul fianco Grave trauma rilevato Agente fuori combattimento A un agente serve aiuto A un agente serve aiuto Sistema A un agente serve aiuto Ok, il complesso è nostro. I Trossons hanno perso un importante mezzo per coordinare le truppe e diffondere le loro stronzate. Rimessa in funzione l'antenna radio, riusciremo a trasmettere in un'area più grande. Grazie a tutti.